Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Ibu90 che lo ha giocato ed è qui con noi oggi. Ciao a tutti! Infatti non sto registrando dal mio PC ma questa è una streaming che lui mi sta facendo. Ha scoperto un metodo su come fare qualche soldo iniziale, oltre quello poi ci saranno anche altre cose che poi lui vi spiegherà e ovviamente non lo reputerei una sorta di exploit perché è una cosa che vi aiuta sul breve termine all'inizio mettere insieme i primi soldi quindi non essere proprio col sedere per terra ma arrivando in mid game quindi nel medio gioco, nel medio della vostra partita, le entrate saranno comunque buone ma non vi cambiano la vita e non sarà come barare nella partita insomma. Niente, ti lascio la parola così puoi spiegare come fare i primi soldi in game appena iniziate. Ah, ci tengo solo a fare scusami una precisazione. Questo è utile, uno potrebbe dire no, io voglio giocare per conto mio, far come voglio liberissimi. Ci sono tantissimi inizi diversi nelle varie campagne e alcuni più di altri sono veramente difficili nel senso che non avrete praticamente accesso inizialmente ai settori più editizi dove normalmente si fanno cristalli, dove si fanno le varie conoscenze. Quindi insomma potrebbe essere un inizio comodo anche per queste situazioni. Ecco, ti restituisco la parola. Allora, comincio con un aiuto al metodo in cui faccio i primi soldi che non è il metodo vero e proprio, ma questo velocizza un po' il processo. Ed è la realizzazione della TS. Viene anche fatto vedere in uno dei tutorial iniziali, quelli proprio fuori dal gioco e si realizza con questi tre componenti che vengono droppati solo dagli Xenon. Quindi, diciamo che serve già un attimino di preparazione o un po' di fortuna trovare qualche battaglia tra una fazione all'Xenon e passare a raccogliere questi tre componenti che ci permettono di costruire questo ATS che altro non è che il fast forward, il tempo veloce in avanti. Non ho trovato da nessuna parte, in nessun mercato, il modo di acquistarli quindi penso che siano proprio solo droppabili. Una volta che si hanno, basta fare crea oggetto e questo ATS viene creato. Non è fondamentale farlo, aiuta, ma non è la fonte di reddito questa, insomma. Però è un aiuto. Non è la fonte di reddito, questo aiuta a stabilizzare il mercato e quindi a fare un secondo giro di guadagni. La TS, altro non è, e andando su una nostra nave e bisogna essere per forza in posizione di guida Altro non è che con il Shift 4 il tempo veloce. Quindi come ci sono le varie modalità, c'è anche questo Shift 4 che illumina di bianco tutto il resto si muove a velocità normale ma potete vedere che le navi sono molto più veloci tutto il resto del mondo scorre velocemente ci crea praticamente una bolla intorno alla nostra nave e questo fa sì che adesso non so esattamente di quanto lo velocizzi ma il mondo prosegue veloce e uno, le nostre navi che manderemo in giro raggiungono prima la destinazione due, il mercato si desatura quindi i prezzi tornano al loro valore base e ci permette di fare altre transazioni. Detto questo passo alla mia altra partita dove tutto è già pronto e vi faccio vedere come ho trovato il modo di fare soldi eccoci qua con tutto pronto per farvi vedere il mio commercio che utilizzo per guadagnare i primi soldi e nello specifico si tratta di satelliti avanzati la cosa che ci aiuta è che il satellite viene visto come un consumabile della nave e non come spazio cargo quindi si possono usare non per forza navi commerciali non occupa stiva non occupa stiva io uso le Pegasus che sono i ricognitori Paranid perché sono i più veloci e quindi mi permettono dei movimenti più agili dopo aver esplorato ovviamente parte del mondo che troviamo luoghi di acquisto i satelliti vanno comprati sempre negli spazioporti perché è dove vengono venduti a un prezzo minore e ne ho trovati alcuni che li vendono a prezzi veramente interessanti ad esempio questo in Santuario della Trinità 3 mandiamo i nostri ricognitori a commerciare con lo spazioporto a migliorare con lo spazioporto nella sezione consumabili e possiamo riempirli di satelliti avanzati in questo caso li vendono a 50.000 riempiamo la nostra stiva gli aggiungiamo la registra d'acquisto e lui andrà a fare l'acquisto adesso io ho varie navi che mi fanno vari commerci un altro molto fruttuoso è in queste zone il precipizio di Tarka ma poi in realtà il discorso prezzi può cambiare da partita a partita sì infatti quindi prendete diciamo le location fatevi magari uno studio voi prima esatto vi fate un giro vedete dove li vendono ad esempio per vedere il prezzo vi basta solo cliccare sulla nave cliccare col destro sullo spazioporto e fare migliora e vedete già i prezzi quindi non dovete andarci senza bisogno di spostarsela questi satelliti poi vanno venduti alle darsene che è dove vengono acquistati al prezzo maggiore perché alle darsene è dove producono le navi quindi voi li vendete loro poi le equipaggiano le navi che vendono alle varie persone nel mondo e anche qui le varie frazioni hanno i vari prezzi e vengono venduti a 71 74 o quelli che vendono di più quindi abbiamo un guadagno di circa il 30-40% tu vai su migliora e poi li togli da quelli che hai li riporti a zero perfetto ad esempio da questa che sta proprio andando qua si torna indietro con la barretta banalmente e ci fa vedere il nostro guadagno di 3 milioni e mezzo che all'inizio non è male che non è male infatti anche perché si è mandate più navi in più settori che comunque si riesce a mettere in piedi un po' di commercio e si riesce a tirare su qualche soldino qui entra in gioco il nostro ATS perché facendo avanzare il tempo veloce innanzitutto le navi arrivano prima non dobbiamo attendere e poi permettiamo al mercato di ristabilizzarsi e far risalire i prezzi nelle darsene e riabbassare i prezzi negli spazioporti dove andiamo ad acquistare quindi dopo un minuto di tempo veloce bene o male si ristabilizza tutto e si rimanda a fare il giro va fatta la diciamo precisazione che non è una cosa automatizzabile per fortuna perché se no non si farebbe più nient'altro è una cosa che come mi dicevi ti aiuta a iniziare ad avere un buon fondo diciamo a livello di soldi e quindi avendo già magari in medio gioco una base con la produzione di varie cose che possono essere componenti non so per navi componenti elettronici raffinazione di metalli è tutto automatizzato il guadagno è sempre più alto quindi mi confermi comunque che non è è una cosa giusto giusto per l'inizio si non vai a rompere il gioco alla fine con un viaggio fare un guadagno di un milione non è questa gran cifera ecco l'unica critica forse a questo metodo che richiede comunque il possesso di un tot di denaro iniziale ma sì anche perché farlo con un solo satellite non ha un senso guadagni forse 20.000 30.000 che comunque sono buoni per cominciare però insomma è un inizio mettere via i primi soldi delle prime missioni comunque qualcosa quelle della storia qualche soldo lo danno quindi dopodiché si comincia così si porta avanti la costruzione della base e una volta poi ottimizzata la base magari si inizia a pensare a una catena di produzione però diciamo che questa cosa dei satelliti unita anche all'ATS l'ATS non è l'acceleratore del temporale non è quello lo scopo per cui è stata pensata però nei capitoli nei capitoli precedenti era per velocizzare i viaggi ma in questo caso potrebbe essere utile anche se è andata una nave da qualche parte per non attendere le ore perché io comunque io penso che su 200 ore che ho giocato almeno una trentina siano state d'attesa esatto sia per fargli i viaggi quelli un po' più lunghi perché se per sfortuna la Darsena che compre dall'altra parte dell'universo comunque ci mettono del tempo anche se sono navi veloci esatto e sia per far tornare i prezzi alla base perché già facendo un pari di viaggi il guadagno diventa molto meno sulla stessa Darsena un'altra cosa tanti online si chiedono ed è la domanda del principiante come si fanno a far livellare i piloti perfetto e mi collego anche al dobbiamo far ristabilire il mercato quando non possiamo continuare a mandare le nostre navi a far viaggi ho messo i miei piloti vari tipo questo in esplora quindi non con tolgo tutto così vediamo per scoprire per rivelare la mappa dei vari settori la cosa più comoda è col control e il clic destro dare il percorso e lui si muove e basta e va a rivelare le zone mentre invece con l'esplora lui prende un'area che è questa che è anche spostabile è molto molto più lenta perché si ferma controlla cerca gli scanner immagino i miei piloti a un livello decente praticamente in passivo perché adesso alcuni hanno 3 stelle e tra l'altro se tu vai sui compiti di una nave così facciamo vedere anche le stelline che poi allora prendo questa ok praticamente se andate su informazioni e si va su comportamento il penultimo gli si può dare il comportamento in passivo quando noi non diamo ordini specifici cosa fa questa nave tu hai impostato il commercio automatico hai impostato il commercio automatico che è quello già avanzato non è quello locale che si può fare sempre ecco per quanto riguarda l'autoestrazione quello che l'ho visto io che è in alto questa nave non lo può fare ma l'autoestrazione è comodissima perché vabbè se hai una nave mineraria ok lo facciamo vedere praticamente vi consente di quella è fallita tra l'altro sì perché adesso ce l'ho associata alla stazione ah ok praticamente vedete che avete questa nave non ha il pilota 3 stelle non ha il pilota esatto ma se la vista è 3 stelle se tu clicchi adesso su estrazione locale voi potete scegliere una merce sola in un punto di partenza solo mentre invece diciamo l'estrazione avanzata pilota 3 stelle potete scegliere mi pare due o tre materiali diversi e lui volerà fino a un massimo di tre portali quindi non rimarrà nell'unico settore che gli date ma si sposterà e questo aumenterà comunque diminuirà il tempo di mining e aumenterà i profitti immagino però lì non ci sono ancora arrivato che il pilota a 4 stelle quindi con l'auto estrazione esperta andrà ben oltre avrà ancora più funzioni immagino anch'io e la stessa cosa vale anche per le stazioni se il manager in gestione avrà 3-4 stelle potrà commerciare la vostra base o mettersi comunque in contatto con stazioni ancora più lontane di quello che fa normalmente esatto che però è una cosa passiva qua non puoi dare il comportamento specifico ma lo fa in automatico rispande del raggio e farà anche commerci più proficui questa sale in passivo perché questo l'ho comprato qui a scherzissimo adesso mi hai raggiunto due stelle basta quindi comunque il gioco lo si sa è uscito da 5 anni è uno dei più belli giochi free roaming sandbox spaziali perché potete pianificarvi veramente tutto io ringrazio Ibu per il consiglio per il tutorial diciamo che ho voluto fare per spiegare questo nuovo metodo di guadagno iniziale e con questo io vi saluto e vi rimando un prossimo video game play non mancate di farci sapere qua sotto che cosa ne pensate alla prossima e ciao 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 ciao